l'emozione fantastica questa macchina stupisce non lo so perché non l'ho ancora guidata l'ha guidata sempre lui io ancora devo provarla l'effetto strada che abbiamo vissuto che ho vissuto al volante era fantastico vedere le persone bambini che sventolavano la bandierina davanti a un alfa romeo che passava è una cosa da pelle d'oca tutti quanti che hanno avuto una reazione molto positiva su una macchina su strada in città fuori eccezionale il futuro di alfa romeo e non posso dire roseo perché sarà rosso il feeling di guida di alfa romeo e in questa vettura ed è quello che vogliamo far sentire a tutti i nostri clienti